Il Teatro Trianon riaprirà a novembre e avrà la missione specifica di proporre la canzone classica napoletana per promuoverla anche in estate ai turisti in visita in città. Questo è il progetto del governatore Vincenzo De Luca che ha compiuto stamattina un sopralluogo nel Teatro di Forcella dove sono in corso lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di rifacimento degli impianti per un importo di 190.000 euro. La regione ha investito complessivamente 300.000 euro per riaprirlo, spiega De Luca, assicurare la gestione ordinaria, pagare gli stipendi ai dipendenti e riprendere la programmazione. E questo perché è un pezzo della storia della città. Questo teatro non è soltanto un luogo per fare spettacoli ma anche un luogo di aggregazione delle famiglie, dei ragazzi. Credo che sette, otto mesi fa abbiamo fatto un giro, una passeggiata qui con Nino D'Angelo e abbiamo verificato la partecipazione delle famiglie anche alla produzione di attività teatrali. Quindi questo teatro andava riaperto innanzitutto come luogo di aggregazione dei giovani di Forcella. Il trianon alla cui direzione artistica affidata a Nino D'Angelo è chiuso dal maggio 2014. Riaprirà a metà novembre con Ozzappatore, un omaggio al re della sceneggiata napoletana Mario Merola. Abbiamo voluto fare un omaggio al grande Mario Merola perché nessuno glielo farà a Mario Merola un omaggio. Pure perché c'è un po' di razzismo per un certo genere di musica, di personaggi. Però Mario Merola era un personaggio del popolo e se non lo fa il trianon l'ommaggio a Mario Merola ci lo fa. Grazie. 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 Grazie.